Padre Massimiliano, tra mille problematiche è bello vedere che questo istituto si riappropria forse di una vocazione in parte smarrita, la vocazione di Sant'Annibale. Ecco, come nasce questa idea? Perché abbiamo pensato di allestire qui in questa sede una mensa per i bisognosi? Perché, come dicevamo, Sant'Annibale, la sua specifica vocazione è questa qui, proprio dall'assistenza dei poveri. Lui da brillante sacerdote, brillante oratore, di nobile casato, lascia tutto per andare a servire i poveri nel quartiere più malfamato di Messina e quindi ci ha lasciato in eredità. Tu ci hai raccontato che un po' con i mezzi messi a disposizione andate proprio andate, uscite fuori a recuperare questi ragazzi, queste famiglie. Sì, ci capita per adesso di uscire una volta a settimana, la sera, specialmente in queste sere gelide che ci sono state, usciamo per andare a dare un po' di conforto a questi nostri fratelli svantaggiati che vivono sotto i portici in vari punti della città. Quanto gli ultimi fatti di cronaca, dall'emergenza abitativa alle morti di alcuni clochard hanno inciso anche su questa scelta che è una risposta importante alla cittadinanza? Eh, hanno influito parecchio perché ogni qualvolta c'è un uomo che soffre, noi crediamo che Gesù soffre perché nei poveri, nei sofferenti c'è Gesù stesso. Quindi questi fatti di cronaca che sono successi ci hanno interpellato profondamente, no? Non ci possono lasciare indifferenti. Cosa vogliamo dire a quelle famiglie che con ogni probabilità provano inibizione nel dichiararsi non rispetto alle loro difficoltà? Ecco, noi innanzitutto cerchiamo di non etichettare nessuno. La nostra mensa noi non la chiamiamo mensa dei poveri. E poi quello che noi vogliamo anche portare avanti non è semplicemente il discorso di dargli da mangiare, perché da mangiare ne trovano tanto, ci sono tante associazioni che gli portano da mangiare. Noi vogliamo caratterizzarci anche come persone che ascoltano, perché molte volte hanno bisogno anche di essere ascoltati. Chi volesse può venire senza nessuna vergogna, senza nessun indugio. Siamo qui pronti ad accogliere chiunque abbia bisogno. Noi ci troviamo in via Castellana, 110, l'istituto Padre Annibale Maria di Francia, conosciuto come Istituto dei Sordomuti. Nasce in via sperimentale questa realtà, tutti in moto per dare il proprio contributo. Questo certamente non è un momento di mera convivialità, ma diventa anche un momento di ascolto. Esattamente. Noi come comunità Nuovi Orizzonti, da circa due anni su Palermo, ci occupiamo la sera, una volta a settimana, di scendere per andare incontro a questi fratellini che la società definisce ultimi. Ma come mi piace definire, sono i primi nel Regno dei Cieli. Nino, ci rivediamo. Ciao, siamo felici di essere qua, in questa struttura che ci ha dato molto, aiuta tutti. Sono delle persone stupende e meritano molto di più dell'attenzione delle persone. Poi, che vi posso dire, purtroppo con il mondo crudele che abbiamo, ogni tanto un po' di felicità ci vuole per tutti.